Questo è un tubo radiogeno che serve per fare le radiografie e la TAC, con questo si producono i raggi X. Mi hanno consigliato di riportarlo intero, non voglio sapere cosa succede se poi dovessi romperlo però... Mi chiamo Matteo, ho 22 anni, abito a Melano, sto frequentando la scuola specializzata superiore al centro professionale socio-sanitario di Locarno per diventare tecnico di radiologia medica. Prima di fare questa scuola ho frequentato la SSPSS a Giubiasco. Mi piaceva continuare a studiare e rimanere nell'ambito sanitario. Lo studio è chiaramente un mezzo che ti porta a specializzarti in una professione, ad arricchirti anche culturalmente perché è molto importante secondo me. Scegliere una scuola specializzata superiore ti permette di praticare, mettere in atto tutto ciò che acquisisce a scuola. Se dovessi utilizzare tre parole per descrivere la scuola, utilizzerei dinamica, multidisciplinare e tecnica. Ti aiuta a entrare al 100% nella professione e a diventare un professionista.